Ciao! Era da un anno che ti aspettavo. Finalmente sei qui a casa mia, a Tokyo. Il volo com'è andato? Tutto bene? Sì? E il tuo gruppo di Giappotour? Ti trovi bene? Ah, mi fa piacere. Guarda, per festeggiare il tuo arrivo qui in Giappone ho ordinato questo sushi veramente spettacularis, che adesso mangeremo insieme, io con te. Ti va? Allora, prendiamo subito la salsa di soia. Ho preparato un piattino per te e un piattino per me. Ti piace vero la salsa di soia? Cosa dici? Da dove iniziamo? Io direi che potresti iniziare tu, visto che sei l'ospite. Ti va se ti faccio assaggiare il salmone? Mi dicevi che ti piace? In Italia mangi tonno, salmone, però questa sera ho preso un po' un misto per farti assaggiare. Dai allora, inizi tu dal salmone. Cosa dici? Mettiamo un po' di salsa di soia e un bel boccone, eh? Com'è buono, vero? Si scioglie in bocca, hai sentito? Adesso però tocca a me. Sai che quasi quasi ti copio? Anch'io parto dal salmone. Un po' di salsa di soia e un po' di salsa di soia. Spettacularis. E' buono, eh? E adesso tocca a te. Un maki, di Weill Maki. Ho preso questi che sono del maki al tonno. Penso che già li ho assaggiati in Italia, però questi sono molto buoni perché usano una parte grassa del tonno. Un po' di salsa di soia. Hai sentito? Senti? Buono, no? Vero? Ah, volevi un po' da bere, scusami. Ecco qua, guarda. Ho preparato anche un po' di acqua per te. Adesso tocca a me. Facciamo... Guarda, io mi mangio un pochino di zenzero adesso. Che sai, tra un bocconcino e l'altro ci sta sempre molto bene. E' special. Io mangio il gamberetto. Questo è il gamberetto bollito. È abbastanza buono, io lo preferisco crudo di solito. Veramente speciale. Tocca a te. Quale scegli? Quasi quasi ti faccio provare la seppia. Che è un po' gommosetta. Sentirai che è un po' particolare, ma è molto buona. Seppia, dai. Buona, eh? Senti, è un po' gommosa. Si fa un po' fatica a mangiarla. Però dà proprio quella sensazione un po' così di selvaggio, no? Vero? Dai, tocca a me adesso. Potrei iniziare a mangiare uno di questi, di Ikura. che sono le uova, che sono le uova di salmone. Te le faccio anche vedere da vicino. Guarda che belle che sono. Molto particolari. Scoppietano un po' in bocca. Poi lo sentirai, te le faccio provare anche a te. Buonissimo, eh? Poi sai, in questi giorni ti farò provare a altri ristoranti, perché con Giappotour ti porterò un po' dappertutto. Ti farò conoscere tutti i lati del Giappone, tutti i posti anche un po' nascosti, poco turistici. Vedrai che sarà molto bello. Ti faccio provare anche a te. Questo con le uova di salmone. Senti che è scoppietta in bocca, un po' particolare, no? Sì, proprio di pesce. Senti questa sensazione un po' strana, no? Sai che quasi quasi, siccome io sono un po' un amante del wasabi, ho visto che qui ce n'è ancora da mettere. Me ne metto un po' nella salsa di soia per fare un bel po' piccante. Tanto il wasabi poi, sai, basta mangiare, basta bere un po' dopo e scompare subito il piccante. Quello è il bello del wasabi. Vorrei provare un pezzo di questo tonno. Questo dovrebbe essere zucche maguro, che praticamente è un tonno marinato, praticamente. E non serve neanche mettere la salsa di soia, di solito. Però io un pochino, sai, ce la metto, tanto per dargli un po' quel sapore in più. Molto buono, eh. Mi voglio provare anche questo. Aspetta che tolgo un po' queste foglioline. Senti che rumore che fanno. Hai sentito? Guarda, volevo provare questo, che è praticamente il ciutoro. Molto grasso, quasi si scioglie in bocca. Un po' di salsa di soia. Questo è spaziale, lo devi provare assolutamente. Mmm, è veramente buonissimo questo. Guarda, il ciutoro è veramente un bel pezzo di... A parte che di solito mi piace sempre il ciutoro. Però in questo caso ha veramente un'ottima qualità. Senti, senti che si scioglie in bocca. È incredibile, vero? È proprio... Guarda, sinceramente, se poi vai in altri ristoranti in questi giorni, che ovviamente ti porto, sentirei che comunque questo che stai provando questa sera è molto, molto buono. Veramente buono. E volevo provare adesso questo qua, che è praticamente lo stesso pezzo, però lo hanno leggermente scottato. Mmm! Anche questo è spettacolaris. Buonissimo! Ti faccio provare un maki? Mmm? Sì, hai visto? Sono molto buoni i maki. Perché poi li fanno con questo tonno particolare. È buono, è buono. Direi di procedere verso altri pezzi. Cosa dici? Sono un po' indeciso. Vorrei provare questo. Si chiama negitoro. Praticamente è tonno, come macinato, con all'interno un po' di erba cipollina. Ve lo faccio vedere anche da vicino. E' come una specie di patè. E di solito è molto buono. Vediamo oggi. Spaziale. Buonissimo. Buonissimo. Adesso mangio il tamago. E' una frittata, è una frittata praticamente, però un po' più dolce. Perché ci mettono all'interno, sai, un po' di varie cose. Ci sono tante ricette per farlo. In genere mettono un po' di zucchero, un po' di brodo dashi, che è brodo di pesce. A volte mettono anche del mirin. Dipende. Ci sono tante ricette. E' molto dolce. Mi piace. Mi piace molto. Te lo faccio assaggiare. Perché merita. Molto dolce. Guarda, in genere si mangia senza salsa di soia. Dipende. A volte con, a volte senza. Io l'ho messa, però quasi, quasi te lo consiglio senza. Perché è dolce e ci sta, ci sta bene. Senti che buono. E' buono, vero? Particolare. Dolce, dolce, dolce. Eh, lo so, lo so, lo so. E' dolcissimo. E' buono. E'issimo no. Non è un dessert. Però è buono, eh. E' bello. Ci sta bene. Ascoltami. Io mangio un'altra fettina di zenzero. Buono. E' buono. E' buono. E' un altro pezzo. E' un altro pezzo. E' il tonno. Senti che buon profumo. Buonissimo. Buonissimo. Sto è buono. 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 E' buono. E' buono. Che buono. Una cenetta indimenticabile, vero? Primo giorno qui a Tokyo per te. Cenetta. Super. mangio un altro maki dopo questa cena sai ti ho preparato la stanza con il tatami così poi ti riposi e ti fa una bella dormita ovviamente prima di dormire ti fai l'ofuro il bagno un bel bagno caldo rilassante così recuperi tutte le fatiche del viaggio e da domani iniziamo a scoprire il giappone un altro pezzo di tonno super maki si sono rimasti alcuni pezzi mangiali pure tu sai se vuoi io sono a posto poi sei ospite e quindi mi raccomando mangia tanto poi comunque tieniti un po di spazio perché nei prossimi giorni ci sarà tanto da mangiare ancora allora buona continuazione di questa cena insieme e buonanotte ciao